Siamo in compagnia di Roberto Ghio, Presidente del Consorzio Tutela del Gavi. Allora Roberto, guardaci un po' del Consorzio. Il Consorzio Tutela del Gavi è una realtà che opera da parecchi anni nella zona del Gavi e aggrega tutti i produttori della denominazione. Oltre a questa sua, lo dice il nome, attitudine alla tutela, a tutta la parte che riguarda la denominazione dal disciplinare alle culture in vigna, quindi arrivare alla produzione, adesso fa cose molto interessanti e qui ce n'è una, devo dire grazie agli organizzatori di questa stupenda manifestazione perché per preservare il concetto di tutela, per preservare un vino si è allargato, si è arrivati anche alla promozione. La promozione è la miglior tutela, quando dietro c'è una realtà come quella del Gavi, una realtà importante, una realtà di territorio, la tutela diventa anche il far conoscere, il promuovere questo vino. Ma il Consorzio del Gavi è circa 100 erotti produttori, più di 100 produttori, per una denominazione che sono circa 1500 ettari vitati a cortese 100%, per circa 13 milioni di bottiglie prodotte all'anno. Possiamo brindare allora con questo Gavi? Brindiamo alla vendemmia attuale, alle passate e soprattutto alle future, con il Gavi, saluto.